Sul mondo femminile nel calcio io sono più che soddisfatto dei risultati che stanno tenendo e mi auguro e auguro al mondo femminile di ottenere quello che vogliono, cioè una conferma di quelle che sono le loro aspettative e ora credo che sia giusto il momento, che sia giunto il momento di arrivare a una conclusione, a una decisione che le soddisfi perché stanno dimostrando quanto lavoro serio hanno fatto, quanto entusiasmo creano e credo che siano tempi maturi ora per fare una definizione.